Abbiamo illustrato al Signor Presidente della Repubblica la disponibilità e la volontà del Partito Democratico di concorrere alla massica di un governo, di un governo sulla scia delle indicazioni del discorso che il Presidente della Repubblica viene a espresso di fronte al Parlamento e in particolare abbiamo illustrato i due punti, innanzitutto la questione chiave è quella dell'emergenza economico-sociale, il problema del lavoro che non c'è, della gestivazione giovanile, la questione soprattutto di cambiare linea all'Unione Europea che fino a oggi su questi temi non ha dato le risposte sufficienti e in secondo luogo il grande tema della riforma della politica con la necessità di dare risposte perché le istituzioni oggi e la politica non sono sufficientemente credibili, queste risposte necessitano scelte che in tempi certi cambiano la Costituzione, riducano il numero dei parlamentari, aboliscano le province, creino un Senato delle regioni e vi hanno la possibilità di una nuova legge elettorale che consente ai cittadini di scegliersi direttamente i propri parlamentari, senza riforma della politica non c'è possibilità di via distinta dalla crisi, queste sono le indicazioni che abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica, ci atterremo alle scelte che il Presidente della Repubblica nella giornata di domani. Grazie 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 Grazie